Al Natale della tua felicità non gliene frega niente. A Natale conta soltanto se hai una famiglia tua. Ma io non mi piego. Io vado fiera della mia indipendenza. Zitella. Si dice zitella. Non ho bisogno di un fidanzato per essere felice. Io congelare gli ovuli. Ce l'ho. Ho un fidanzato, lo porto a casa per Natale. Ma c'è una speranza per tutti. Io anche se volessi è impossibile trovare un fidanzato in 24 giorni. Intanto io ti scrivo su Tinder. No, no. Gianna sta cercando un fidanzato. Da quanto è che non fai sesso? Intendi con qualcun altro? Ho trovato l'uomo giusto. Si chiama Carlo. Lasciati stupire. Ti piacerà? Tu vuoi che io salga là sopra? Questo a me sembra giusto. Una barca meravigliosa, vela, il tramonto. Bello, eh? No, molto. Ci stai provando con me? Io non ci stavo provando con lui. Ho già nemmeno chiesto che cosa stai facendo. Il liceo linguistico. Ciao. Ciao. In alto, in basso, Natale che spasso. L'unica cosa che mi interessa è trovare un ragazzo abbastanza normale da portare a cena per Natale a casa dei miei genitori. Magari devi solo guardarti intorno. Se io avessi ascoltato gli altri, avrei fatto meno della metà delle cose che ho fatto nella mia vita. Wow. A tutte le volte che la passione ci ha giocato brutti scherzi. Se questo amore per sempre non esistesse... Allora Gianna, questo misterioso fidanzato arriverà. Assisti. Allora Gianna. Allora Gianna. Grazie. Grazie a tutti.